Ebbene amici fratelli della congrega, comporiamo il numero? Drin, Drin, pronto? Pronto? Andrea Roncato? Sì, sono io! Mi ha visto recitare in Diabol, Ginko, l'Attac? Tempo fa, lei mi ha visto, non è Fallotic. Ah, Dio Porzo, ma si è già scordato di me? Dai che saremo insieme nella serie TV Un Amor con Stefano Corsi. O comunque, te lo ricordi, quel monologo tanto celebrato, Radio Frecce? No, testualmente, comunque ascoltiamolo. Questo è bolognese, dacca! Buonanotte. Bene, qui è Radio Raptus e io sono... Radio Raptus. Ivan. Ivan. Classico nome comunista. Si dice qualcuno che non dorme. Che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io ho una cosa da dire. C'è una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Una discussione con un mio amico. Lui... Lui... Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, tu non credi in niente. E cioè? Beh, non è vero. Non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate buonimbe. Credo nelle rovesciate buonimbe. Nei rift di Kik Trichers. Credo... Credo... La persona di campanella padrone di Kers con l'affitto nel primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe un padre, una madre, che siano dicenti con lui, almeno finché non si sta in piedi. Credo che un inter con quella di Cosma Zola e Suero non ci sarà mai più, ma non è detto che ce ne saranno altre belle maniere diverse. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi a qualche dio. Ah, si capisce. Eh, tal da me. Che cosa? Che, che, che? Qualche amichetta? Qualche soddisfazione sul lavoro? Soddisfazione? Stanzate con gli amici? Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti. Vuol dire che voglia di scappare da un paese. Per te stesso. Non ci scappi almeno se sei Eddie Max. Ma chi è questo Eddie Max, frate? Meglio alessi e a me. Un cazzo della vita degli altri. Un cazzo. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve. In certi momenti. Ecco. Allora, vedete un po' di ricaricare le vostre scorte. Vai, bello. Dai, vecchio. Dai, mettiamo su questa musica qua. Dai, di Luciano Ligabù. Sì, ma Stefano, che se vuoi. Stefano Acosta, che è credibile. Sì, con un paio di marroni. Sì. Beh, cosa sta dicendo, signor Andrea Roncatto? Beh, io ho lavorato. Fra l'altro io conosco le donne. Questo qui, nel film, si suicida per naracchie. Ma ti pare possibile? Quanto pare. Lì, sul set di quel film, sono cose che mi dicono nell'ambiente. Per cui, vi disse la Coppa Volpi. Questo Volpone di Stefanulza Corse. E lui è esperto di antica gelateria del corso. Limonava di brutto con Laura Morant. E lì era sempre a mezzogiorno. Sì, sì. I sollevanti. No, quello che si solleva quando lei strappa le mutande. Dino, campana. Dino, suona le campane. Taldegme. Dai, uno che è stato con Letizia Casta, che quella non è Casta manco cucazza. Ma sarebbe credibile? E questi sono gli attori che abbiamo oggi in Italia. Dio, porzo. Se, no, vorrei parlarti di quel film. Ne parliamo lunedì, ma ne vogliamo parlare di quella gnoccolone che era la Sofia Ricci? Ma d'altronde è stato anche un Berlusconi. Non era Berlusconi, Tony Servilli loro. E non c'è la Ricci. E quella te lo faceva diventare Rizzo. Guardala. Che fa un po' come Jessica Rizzo in quel film. Ex, non ex, è Commedia Sexy. E beh, insomma, Commedia Sexy, Ex, Brizzi, Rizzo. Ah, io sono un attore navigato, ne ho viste di ogni tipo. Poi, io ho recitato anche con Isabel Roussinov. Colino Banfi, naturalmente. L'attore del Palone, Bergozoni. Poi c'è la mia battuta, The Fox, La Volpe. E beh, mezzo destro, mezzo sinistro, una gnocca, ma una gnocca, quella Isabel Roussinov. Che poi ho lavorato con lì, non c'ero io. Nel commissario Loratto, la storia della tua vita, Falottico. Ah, Logatto. Ma tu chi sei commissario? Ma esiste veramente questo qui, è un libro, presto sarà su audio, davvero. Falottico, mi reciteresti, diciamo, questo pezzo? Lì io ti posso dare, diciamo, lezione. Lezione o lezioni? Lezione o lecitazione? Attenzione, però, all'addizione, Falottico. Allora, recitemelo, recitemelo in bolognese, doc. Credo ai rovesciati Bonimba, nel riff di Kate Richards, credo al doppio suono di campanella del padrone di casa che vuole l'affitto nel primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe un padrone amato che sia dicente con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un inter come quella di Cosmo, Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non ho detto che non ce ne saranno altri belli in maniera diversa. Credo che non sia tutto qui, però prima di credere in qualcos'altro bisogna fare i conti, eh, con quello che c'è qua. E allora non mi sa che crederò prima un po' a un qualche dio. Io credo che, insomma, avrò una famiglia, sarà dur, tirare avanti contro 100.000 lire al mese, però credo anche che se non leccherò a culi come fa il mio caporepparto, difficilmente cambieranno le cose. Ma chi? Ma voi date retta a Falotti? Ma quello è stato internet. Ma non è stato internet. Quello lì travestito di campagna, lo sto dito, fulminetto? Ma non è così? Ma come sono andate allora le cose? Non ci capisco un cazzo? Se mi spiegate? Ma quello lì travestito di campagna? Quello lì dietro alla lavagna, stai zitto, balanzone, vai a mangiare le lasagne, dai. Credo che la voglia di scappare ti sia passata da un pezzo. No, di scappare da un paese con 20.000 abitanti. Vuol dire che volevi trasferirti, insomma, da quel paesino dove sei nato, a Bulagna, e che volevi scappare da te stesso. Poi questi qua non sono di Bulagna, saranno di Rimini, si sono andati ad Amarcorda, a Fellini. E da te stesso non ci scappi nemmeno se sei di Max. E qua ci vorrebbe doni servire la grande bellezza, no? E credo che non è giusto giudicare la vita degli altri. Perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Quindi la gente giudica facilmente. La più grande e sensazionale e straordinaria scoperta che ho fatto a 43 anni è che io sono senza età. Essendo un genius, la gente non ci capisce un cazzo a una certa età. E penso, ma come mai? Ma a quei ragazzi piace la prunina? Quella ragazzina lì, gli piace? Gli pinci? Ci vorrebbe, diciamo, una recitazione alla nana Moretti, eh? Credo nelle ricette di Gid Richards. A proposi Laura Morante, Moretti, Moretti, eh? Era una bella morettina in bianca. E tu mangiava la nutellina. Dal baratto gigantesco, eh? Nanni, nanni, arrivano pure un nano, eh? Poi dicevamo, hai messo che lì c'è pure Stefano Corsi, eh? Della stanza in figlio con la cena. Perché, diciamocela, adesso, nanni, eh? La ficchi in tutti i tuoi film, te la fai, eh? Te la fai, Margherita a bui, te la fai, eh? Lì al buio, eh? Buono, sta buono, nanni. Hai messo quella scena di Laura a sede ignudo nella stanza del figlio per leccare i suoi capezzoli. Perché, Laura, tu, fra l'altro, nanni, non ti sei mai preso la laurea. Ecco, hai interrotto gli studi. Poi volevi fare il fenomeno per queste radical chic di Bologna, e qua il comunismo va a forza, questi sinistroidi. Gli hai girati pure i film. Io sono un'autartica. Che è arrivata una certa età, l'hai pigliato del culo, hai girato la messa finita. La messa finita. Ma, nanni, ce la vogliamo dire fra noi. Ma, Laura, gliel'hai messo o no? Gliel'hai messo del culo o no? Io sono un paio, ma, nulla. Grazie. Grazie.